Lunedì si torna a lavorare dopo più di una settimana di sciopero. La marineria di Sciacca ha assunto tale decisione questa mattina dopo gli incontri avuti con il prefetto di Agrigente, il presidente della regione e il sottosegretario alla pesca. Il mese di agosto e quindi si va incontro al ferragosto è uno dei mesi principali per la marineria sia di Sciacca che in Italia. Abbiamo deciso di riprendere l'attività della pesca appunto perché il nostro lavoro principale di questo sciopero è stato quello di cercare una sensibilizzazione da parte di tutti e con tutti. Abbiamo iniziato con la prefettura di Agrigento, con il prefetto in prima persona e l'abbiamo trovato una persona molto disponibile alla causa. Siamo passati poi alla regione con il presidente della regione Nello Musumeci che anche lui è stato sensibilissimo alla causa e si è messo a piena disposizione come pensavamo e non avevamo dubbi con tutti gli onorevoli di riferimento. Poi ieri siamo passati a parlare con il sottosegretario della pesca e anche lì abbiamo cercato di fare un lavoro di sensibilizzazione e lo abbiamo trovato abbastanza disponibile anche perché per quello che mi riguarda l'ho trovata una persona molto pratica che va subito al sodo. Ha cercato da subito di venirci all'incontro dando delle dritte e soprattutto prendendosi delle responsabilità non indifferenti. Parlando in prima persona a nome di tutti per gli europarlamentari e tutte le persone che lavorano per la causa. Naturalmente lui a nome dell'Italia si prende la responsabilità di poterci tutelare in Unione Europea tramite gli europarlamentari e quindi stiamo cercando un attimino di far fare gruppo per poi rappresentarci in Europa. Sarà un lavoro non indifferente ma che abbiamo la fiducia da parte nostra e da parte di tutti e anche da parte loro e quindi stiamo cercando di raggiungere questo obiettivo. Abbiamo raggiunto questo traguardo che è quello di essere riusciti a parlare con lui in prima persona. Adesso abbiamo deciso di ritornare al lavoro appunto perché è il nostro compito diciamo che è un po' finito, non abbiamo altro da fare che andare al lavoro perché è il mestiere che sappiamo fare meglio e quindi stiamo tornando alla pesca. C'è cauto ottimismo ma c'è anche la preoccupazione legata ai controlli a fronte di un regolamento approvato anni fa e che è ormai entrato in vigore da settimana. Speriamo che questi controlli non siano accentuati come quelli che abbiamo avuti nelle settimane precedenti. Speriamo che non siamo controllati da lunedì in poi. Noi praticamente uscivamo la notte che andavamo a lavorare già con la preoccupazione di essere presi. È stato uno scompiglio che si è creato anche tramite i social, tramite Facebook, tramite i vari social in cui le marinerie di Licata e di Porta Empedule ci siamo messi tutti in contatto e ci siamo uniti per fare gruppo. Questo gruppo ci ha dato una grande occasione di metterci in contatto in un primo luogo con il prefetto di Agrigento e in un secondo luogo con il presidente della regione che è stato molto disponibile. È una persona veramente ottimista al 100% per quanto riguarda la pesca siciliana, soprattutto perché è veramente una vergogna andare a chiudere tutti questi tratti di mare nel canale di Sicilia, che per loro, anche per la regione in particolare, rappresentano un importante punto di risorsa, perché fermare tante famiglie che riguardano il canale di Sicilia non era una cosa positiva, l'ho detto anche lui, il presidente della regione. Tra l'altro questi incontri proseguiranno domani mattina, c'è un'altra riunione con l'euro parlamentare Stancanelli, ma poi c'è anche un consiglio comune all'aperto che il sindaco ha già richiesto. Sì, ci sono ancora altri vari incontri, noi però, come abbiamo ben detto, oggi ritorniamo ad andare in pesca, però speriamo bene e che siamo molto fiduciosi su quello che abbiamo fatto in questi giorni.